e supplementare se vuoi il pranzo di Natale finalmente anche tu Cristiano puoi mangiare quello che vuoi ma prima manca una cosa si certo il tovagliolo ma manca anche un'altra cosa cosa manca? ah beh si formaggio ok ma Cristiano devi fare anche gli auguri buon Natale oh la adesso si che puoi mangiare e che tu Luciana devi fare auguri a io Merry Christmas and I wish a good year for everybody for everybody I wish you a Merry Christmas I wish you a Merry Christmas and Happy New Year and I wish you a good year for everybody ектор is away orek I wish you a Merry Christmas I wish you a Merry Christmas or he yeah aY j mah and I wish you a Merry Christmas of the Merry Christmas